Allora, adesso parto con il protagonista della serata, Alfonso Femia, che è cofondatore nel 95 dello studio 5 P1, che poi è diventato 5 P1A, e adesso invece semplicemente Atelier Alfonso Femia. In questi anni ci sono innumerevoli premi, concorsi, vinti, vinti tantissimi, citiamo i vinti, e tante segnalazioni, docenze, cioè di tutto e di più, una carriera di grande successo. Cito semplicemente qualche esempio, i frigoriferi milanesi, che appunto sono una perfetta integrazione di architettura e territorio, contesto urbano, che appunto hanno vinto il premio Filippo Routier nel 2011, mentre poi un altro bel esempio di integrazione e rigenerazione sono i DOCS di Marsiglia, che appunto sono un concorso vinto nel 2009, un esempio di architettura e contesto urbano molto molto importante. E un'altra architettura che a me piace tantissimo è l'OGR di Torino, che anche questi sono stati segnalati e oggetto di un premio nel 2012 delle architetture rivelate. Ultimo lavoro di quest'anno, il masterplan, lo sviluppo del masterplan di Parigi per la candidatura dell'esposizione universale del 2025. Alfonso Femi è un visionario, un calabrese che ama i sogni e cerca di coniugare la realtà con i sogni, le idee e ricerca, sempre alla ricerca di nuovi confronti. Lasciamo la parola ad Alfonso. Troppo buoni. Intanto Varese per me è un luogo che segna un po' l'età che gentilmente tu hai ricordato, nel senso che oltre ad amare questa città per essere l'unica in Italia, l'Italia principale in Europa, a perseguire con continuità il confronto, il dialogo con tutte le realtà intorno al progetto e quindi l'Ordine e le persone che non solo rappresentano l'Ordine, che automaticamente rappresentano questa città, hanno costruito in questi anni qualcosa che per me è di riferimento e che porto sempre di esempio in altre città italiane, soprattutto nel far capire come questo processo di confronto e di dialogo sia il primo punto importante, soprattutto perché è fatto in maniera continua, trasversale, ascoltando diverse voci. Quindi contento di essere qui per la terza o quarta volta, ogni volta più grigio e più bianco, però insomma bene. E quindi oggi vi racconto insomma il viaggio di questa balena che nasce recentemente, che in realtà poi prova un po' a mettere in sintesi quello che, più che quello che stiamo facendo, quello che in qualche maniera è il nostro modo di vedere l'architettura che personalmente, principalmente il viaggio intorno all'uomo e il viaggio intorno all'incontro col mondo. Partiamo da qua, nel senso che nella battuta che ho detto prima io racconto sempre, perché poi le origini, i luoghi sono significativi per me in questa dimensione di viaggio. Io non sono genovese ma scelgo Genova, amo Genova e nonostante il fatto che a Genova non abbiamo mai fatto niente in 22 anni, è il posto da cui parto e torno quotidianamente. Da dieci anni siamo a Parigi, da dodici a Milano e Genova però in questa triangolazione in queste tre città è qualcosa che completa le tre anime di queste tre città, che straordinariamente hanno identità, anime differenti ma che vissute contestualmente, soprattutto a livello progettuale, sono estremamente ricche perché sono tre città con caratteristiche diverse. Questo è il giardino che è una foto importante per quello motivo, perché il giardino dello studio, noi siamo locatari del principe Polavicino, Genova città di famiglie, nobili, ma la cosa interessante è che nel nostro studio c'è la sintesi della città, al quarto piano si entra dentro un piano nobile dove normalmente il piano nobile è al primo piano e quindi stupore e meraviglia di incontrare il quarto piano come un palazzo strutturato differentemente, quindi lavora sulla sezione, questa sequenza di stanze affrescati, sforcia poi in un grande terrazzo che in realtà poi è il giardino di un'infrastruttura, l'infrastruttura ottocentesca quando Genova ha voluto collegarsi a Storrest e lì però c'è una magia, c'è una natura quasi come se non fossimo in una dimensione artificiale, in più l'edificio diventa una torre, quindi Genova è una grande maestra, è la mia città invisibile, non posso dire altro, l'ho capito nel tempo, l'ho capito come Genova ti permea di lezioni non scontate e quindi finché riuscirò partirò e tornerò sempre da Genova. Raccontavo oggi agli amici del piano che recentemente, l'ho scritto anche in un libro recente, sono affezionato a questa frase perché vuol dire due aspetti, da un lato la mancanza di memoria e di sguardo del momento contemporaneo, nel senso che nonostante si siano dette, fatte molte cose importanti, oggi va meglio, ma noi viviamo un momento assolutamente senza memoria, senza sguardo, che poi automaticamente il primo vuol dire essere senza coraggio, visione e piacere. E quindi tutto questo ha determinato l'ultimo decendo inevitabilmente in un tempo in qualche maniera decadente e mediocre, non oltre nel pensare che una crisi, termine assolutamente sbagliato dal punto di vista via, perché uno identifica la crisi come un momento per cui uno poi ritorna al punto primo della crisi, invece considero questo momento storico come un momento straordinario di passaggio tra tempi diversi e in questi momenti di passaggi e di trasformazione può accadere qualcosa che noi non percepiamo mentre la viviamo, ma è estremamente importante. Io questo lo sto vivendo tra due paesi, come l'Italia e la Francia, estremamente differenti, ma che mi hanno permesso in qualche maniera di soffermarmi esclusivamente sulle cose positive, l'uno del lato e di nutrillo. Questa è una cosa che abbiamo regalato al Guggenheim tanti anni fa a Venezia, in una spedizione, dove c'è questa idea del viaggio attraverso questa opera d'arte di Danilo Trogo, un compagno di viaggio che ci accompagna da tempo. Cos'è il progetto per me e per noi? Il progetto è uno sguardo, sguardo nel senso che, come ci racconta Tufo, è un modo di volgere lo sguardo a questa realtà, di entrare in questa profondità. Guardare è diverso che vedere, guardare vuol dire in qualche maniera soffermarsi, guardare vuol dire una forma di ascolto, ma guardare è anche pensare che l'architettura diventa dispositivo percettivo della realtà. Molte delle nostre architetture non nascono per farsi vedere, non nascono per essere, come dire, estranei al contesto. Spesso sono dispositivi che mettono in scena reale, vogliono entrare in questo dialettico, in questa dialettica percettiva, che è un tema estremamente importante che spesso l'architettura non fa, l'architettura tende in qualche maniera a chiudersi in se stessa, a essere autonoma in qualche maniera, quindi a essere un corpo estraneo. Invece per me l'architettura per noi è un atto che si struttura su due azioni, quella del leggere, che quindi vuol dire guardare, vedere, e quello dello scrivere, ovvero raccontare la metamorfosi. Scrivere perché poi il progetto è fatto di scrittura, quindi ogni progetto per noi racconta una storia, su questo progetto ci torneremo, ma questo progetto comincia a far capire, perlomeno dal mio punto di vista, quanto la luce sia una materia di scrittura per noi estremamente importante, perché la luce è qualcosa di specifico di un luogo, ogni città ha una sua luce, soprattutto se siamo un paese come l'Italia, ma come l'Italia del sud, dove il chilometro per un chilometro, questo aspetto rispetto al nord Europa, cambia e ne caratterizza gli elementi. Ma se torniamo a Parigi, questo progetto del riuso e del recupero della poste del Louvre, l'ultimo grande manufatto del primo Andesma, inventa all'ultimo piano un dispositivo di percezione della città, perché raramente a Parigi si vive, diciamo, i tetti, le coperture, perché questo gabarit fondato da Haussmann nel grande piano ha stabilito un'altezza costante, che solo negli ultimi anni la città di Parigi in alcuni punti sta, come dire, variando, e quindi per noi conquistare quel luogo voleva dire anche conquistare degli elementi, come la Basilica di Santo Stascio, avete visto prima la Tour Eiffel, degli elementi che siano capaci in qualche maniera di comprendere, di metterci in scena e in contatto con la realtà. Ma il progetto deve essere un atto responsabile. Io tengo molto alcune parole che sono un po' scompasse dal nostro linguaggio, tra cui responsabilità. Responsabilità non inteso gravoso. La responsabilità è perché il progetto è un atto di metamorfosi, il progetto è un atto di metamorfosi della realtà di un punto che non ritorna come prima. Quindi deve avere tutti i valori, possibilmente, di qualità, ma deve essere un atto responsabile perché in qualche maniera la metamorfosi ci porta in un altro posto. Quindi è ancora più responsabile quando interveniamo e lavoriamo su manufatta esistente, questa è giusto la gola dei frigoriferi milanesi, che ha la particolarità di aver dato a un luogo un ruolo che non era la richiesta del committente, perché è un ambito completamente privato. Raccontavo oggi come nel 2000 dire che i frigoriferi erano al centro di Milano non era comprensibile, perché c'era un'idea di Milano in cui certe distanze di pochi chilometri stabilivano già delle idee di periferia. Quindi il progetto nasce pure su un terreno, su una proprietà privata, nel raccontare questa metamorfosi della città e come un ambito privato possa, deve diventare un cuore pulsante che racconta questa metamorfosi e come ciò che in qualche maniera caratterizza la parte meravigliosa dell'edificio come la gola, la scoprite solo se ci cadete dentro, solo se entrate in contatto sull'edificio, perché se no non appare dall'esterno. E questa è una delle grandi lezioni che ho imparato da Genova. Genova ha questa particolarità del fatto che all'esterno appare verità, è difficile, è molto introverso, non si fa male, quindi per poter apprezzare le sue ricchezze, le sue bellezze dovete scendere, dovete passeggiare nella città, dovete entrare nei palazzi, nelle corte, scoprire un paese, un immaginario estremamente più ricco e importante. Cosa vuol dire? Vuol dire entrare in contatto, vuol dire stabilire un rapporto. Noi viviamo un periodo, da decenni, con la tecnologia, con il sistema diciamo della rete, in cui galleggiamo. Io recentemente a Hong Kong facevo una conferenza in cui parlavo di un mondo che è diventato surf, quindi surf è uno sport individuale che galleggia sulle onde, tocca appena le onde, quindi in qualche maniera è abbastanza solo per tecnico, e a questo invece contrastavo l'idea della balena, la balena che per scendere a mille metri di profondità, prima di scendere sta a 60 secondi in sospensione con la coda e poi appare solo in certi momenti. Ma perché la realtà, la socialità, come hai raccontato prima, si mette insieme a una dimensione onirica? La dimensione onirica è raccontare un progetto in maniera precisa e attenta attraverso, questo è il progetto di Parigi la Post del Lube, in cui questo modello fatto da Danilo in ceramica, noi facciamo spesso su alcuni progetti questi modelli, che vengono realizzati dando dei disegni in scala 1 a 200, quindi non parte l'elemento tecnico, e chiediamo all'artista di poter trasferire nel modello l'anima che noi vogliamo del progetto, e questa idea è di lavorare tutto sulla corte interna, di rivelare un'intimità nuova e con questo asterisco dorato che invece diventa l'elemento che si relaziona al territorio. Ma così come in questa scuola, sempre a Parigi, in cui il tema di costruire una scuola che aveva l'obiettivo di diventare un luogo, per quanto riguarda dal punto di vista naturalistico, pensare ad un edificio che avesse un muro dove potessero fermarsi gli uccelli, in una serie di situazioni di fauna, particolare nell'ambito urbano, una sperimentazione molto forte e che qui richiamano un immaginario molto italiano che rappresentiamo in questo immaginario. Così come questo edificio, sempre al centro della Francia, che volutamente cerca di rifiutare questa logica in cui un edificio per uffici pubblico deve essere rappresentato da una curtain wall in vetro, abbastanza indifferente, abbastanza, come dire, non legato a un luogo in contesto. Come questo concorso che abbiamo vinto, in cui siamo arrivati al progetto definitivo, pronti per avere l'esecutivo, ma come spesso in Italia, non solo per noi, ci si ferma. E' la dimostrazione che fare un asilo in una scuola materna, applicando il decreto ministeriale delle scuole, non voleva dire per forza fare un edificio quadrato, per rispondere alle norme, ma poteva in qualche maniera rimanere nell'immaginario dei bambini, nell'immaginario di uno spazio tale per cui il movimento dei bambini in uno spazio fosse libero, a un rimando come i pezzi di cose istituiti dal mare rappresentati da Munari, e che in qualche maniera permettevano di fare in modo di comprendere come i bambini, ovvero noi, poi ci dimentichiamo, scopriamo il mondo attraverso un meccanismo di stupore e meraviglia. Non partiamo dai bambini, non facciamo mai una linea dritta, ci muoviamo nello spazio liberamente quasi descrivendo un loro spazio. Quindi questa dimensione onirica, legata al tema pragmatico, racconta, voi vedete qui la pianta di uno dei elementi dell'asilo che avevamo prima, che racconta come la scuola risponde perfettamente all'esigenza, per esempio, di avere un unico persona, senza avere molto personale, che controlla tutto il sistema, e come tutta la parte dei nido e servizi siano perfettamente circonsensi, e che questa dia una forma capace di relazionarsi all'esterno, capace di diventare un luogo, diciamo, di immaginario ma reale. Questo è stato riportato su diversi progetti, su parti di progetti, come l'agenzia spaziale, o come quelli che io tengo molto, quei progetti piccoli, quei progetti che vanno da 500 mila euro a 2 milioni, 2 milioni e mezzo, che sono quelli che fanno la realtà quotidiana italiana per il pubblico, che sono quei manufatti che spesso risolvono, comunque, al pubblico gli permette di attingere pochi finanziamenti. Uno dei tanti è questo museo giocattolo del bambino a Cormano, dove, poi vi raccontrò dopo lo schema, ma dove la volontà di questo, di protarre la parte nuova dell'edificio più avanti, per coinvolgere la strada, in un immaginario capace di raccontare più la dimensione del bambino, viene rappresentata qua, e dove poi vedrete, in questa immagine non si scopre tutto, la zebra è un animale immaginario, la scala scende come la lingua di un animale fantastico, i coni sono i cappelli di Pinocchio, le zampe sono differenti, e quindi questo è qualcosa che immediatamente entra in contatto in maniera realistica, ma realizzando un rapporto in cui la strada lì deve rallentare, appartiene a questo immaginario, e quindi mette in gioco l'idea di città, o come un'idea di ufficio, qui siamo a Brescia, in un'area di recupero di un'ex area industriale, e dove il volume, la materia, che è tutto un tema molto importante per me di ricerca sulla materia, soprattutto nel riportare, come vediamo in queste immagini, la ceramica, nell'architettura, ceramica è una materia, la prima materia con cui l'uomo ha costruito gli oggetti, la prima materia che è vecchia come l'uomo, è la materia che ha caratterizzato tutta l'architettura importante al Mediterraneo, che l'abbiamo dimenticato perché commercialmente negli ultimi decenni è finita nei bagni, nelle cucine, nei provvimenti dei centri commerciali, invece siamo vicini a, soprattutto noi, a qualcuno come Gio Ponti, che non è molto lontano neanche da Varese, che ha costruito l'architettura straordinaria, e che noi da anni io ho riportato sull'aspetto tridimensionale, perché l'aspetto tridimensionale, perché come vedete in queste immagini, l'aspetto tridimensionale che tecnicamente è molto difficile, è una sfida che ho lanciato da una serie di aziende, solo una, l'ha portata in fondo, la Casa Grande Padana, permette di lavorare con la luce, di scomporre la luce, quindi quegli edifici che stiamo facendo in ceramica non sono mai uguali a se stessi in nessun momento della giornata, perché a seconda se il cielo è azzurro o appena un colore, se grigio o un altro, se in qualche maniera come si relaziona con le alberature, è ancora diverso. E per quello parlo di pragmatismo di visione, un pragmatismo visionale che è ovviamente un ossimulo per dire che, per dichiarare ogni volta a un committente che non esiste l'equazione, per il fatto che non si possa fare l'architettura o costa o costa nel processo o meno, o che per fare un progetto non si possa ambire ad avere come una visione che porti un messaggio, racconti una storia. E quindi può sembrare particolare, ma ciò che ci colpisce per me, ciò che è motore dell'architettura, non è mai l'architettura. La nostra capsula di petri è riferita a un immaginario spesso dell'arte, del cinema, o del mondo reale, o della quotidianità, come in questa famosa, diciamo, la stanza della Camera degli Sposi, la presentata del Palazzo di Tarimanto, è un rapporto con il cielo che noi ritroviamo, per esempio, nella scuola di Zuliano, completamente in legno, in cui decidiamo, in quell'area lì, portando dietro un'esperienza di un altro centro della musica, similare a sviluppato intorno a Parigi, l'idea che ci debba ritornare un'idea di corte, una corte capace di proteggere i bambini, una corte capace con questa variazione del tetto che costruisce un immaginario, un modo di ritagliare il cielo all'interno di questa corte, ci permette di costruire un immaginario che è quello, diciamo, della casa sull'albero, è quello del modo di percepire il pesaggio differentemente, dove la dimensione cromatica diventa anche qui il rapporto diretto, diciamo, dello spazio col bambino, è capace di fare sì che questo elemento si identifichi immediatamente con chi vive questo spazio, gli appartiene. E questa è, diciamo, una scuola che risponde al decreto ministeriale, ma è una scuola che dimostra che pur facendolo in legno, si può parlare di architettura, di un rapporto empatico con lo spazio, che immediatamente dalla corda al legno, a queste orecchie che si muovono, racconta un immaginario importante. Quindi il progetto deve volgere lo sguardo, quello di prima, verso un futuro possibile e uno impossibile ad oggi. Occorre lanciare ogni volta nel progetto un'ipotesi di impossibilità, perché è l'unica cosa che può muovere all'interno del progetto la possibilità di muovere la barra, diciamo, diciamo, di ciò che oggi ci appare vincolo come regola. Questo è un progetto che si è posto una grande sfida a dimostrare in Italia, ormai che questo progetto ha alcuni anni, dimostrare in Italia che il progetto residenziale poteva essere di qualità dal punto di vista architettonico, materico, compositivo e per poter vincere questa sfida doveva costare 1.000 euro a metro quadrato, 1.100 euro a metro quadrato, doveva dimostrare che si poteva fare ricerca stando dentro dei parametri che potevano, in qualche maniera, sconfiggere quell'idea tale per cui l'architettura portata residenza deve costare se non si può. E in più doveva rispondere ai vincoli di una malattia molto italiana, non solo, nel confronto, ovvero che c'è qualcuno che disegna l'inviluppo delle volumetrie di un piano di situazione, diciamo, il piano urbanistico o delle norme, diciamo, le regole, e poi qualcuno deve su quello fare un'architettura che spesso non può raccontare, non può stare dentro delle regole, ma non può sempre stare dentro delle regole. E noi qui raccontiamo proprio il fatto che la sfida è stata dimostrare che, interpretando più i vincoli e non leggendo, diciamo, le regole come condizionamenti, si poteva ribaltare completamente il concetto del progetto, ma vorrei raccontare più avanti con altre strade. Questo è il tema che raccontavo prima del Museo del Giocattolo, comprendete il tema del rapporto corriuso della vecchia fabbrica di mattoni e come anche l'estensione. Noi tendenzialmente spesso ci allarghiamo, ovvero allarghiamo il raggio di azione del progetto coinvolgendo minime risorse del budget e dentro il suo budget per far capire che è impossibile lavorare sulla città con dei perimetri definiti da norme, da regole, da elementi fondiari, ma qui è stato sufficiente questo, che era banalmente una strada, dipingere l'asfalto con i vecchi giocatori e far capire che quello è ancora ambito del bambino e che quindi quella specie di senso di corpo che viene dopo che uno fa una lottizzazione terribile per dare uno standard invece qualitativo funzionale non è sufficiente, occorre andare oltre, occorre far capire che quel tipo di spazio ci permette di raccontare una storia. E nel raccontare la storia, negli atti fondatori, io discuto sempre col cliente privato che io discuto fino alla fine sui principi fondatori di un progetto, sui principi fondatori, lì dobbiamo discutere, lì è arrivato a un punto in cui siamo d'accordo tutti, perché è lì che si stabiliscono i principi con cui il progetto, poi la declinazione la può fare uno blu, una gialla o meno, ma se i principi fondativi sono condivisi l'argomento si sposta su un altro piano dopo. Ed è lì spesso che non c'è invece la voglia di discutere, perché lì si mette in campo veramente che l'idea di futuro non vuole dare. E spesso nei principi fondativi ci sono due aspetti, il tempo, materia di cui nessuno parla più, nessuno parla più del significato del tempo, nessun aspetto, ed è la materia che è la dimensione empatica con cui il progetto di architettura dialogo con le persone normali, quelli che non si occupano dell'architettura. E che raccontano questo immaginario, questo è il Mr. J con dei docs di Marsiglia, che vi raccontano un po', oppure i sette blu della corte blu di Marsiglia, che raccontano tutta un'idea di rapporto mediterraneo e di come portare la luce giù o il fondo ai 30 metri, o le grandi tende, vele o velari, come si può raccontare, della quarta corte, qui nel primo del Marsiglia. Quindi, cosa sto cercando di dire? Che per me è impossibile pensare reale senza l'immaginario, pensare l'immaginario senza riflessa reale. I due si nutrono in vicenda. La modalità con cui noi dialogamo in studio, la modalità con cui dialogamo col committente, è sempre questo tipo di aspetto, che è anche il medium con il quale spesso si trova il punto, diciamo, di dialogo con l'altro. E, per esempio, in un concorso che ho vinto anni fa, realizzato per la Torrizzontale, disegniamo questa mappa, che è una mappa quasi immaginare, in cui però facciamo leggere in maniera differente Milano, nel tracciato del Sempione fatto da buona parte, che istituisce quasi immediatamente l'idea che la città man mano cambia di scala con questi grandi manufatti e quindi va verso il territorio, così come il territorio entra nella città. E il progetto vuole raccontare questo. La risposta al concorso è una sfida nel dire voi volete due torri? Noi non vi diamo due torri, perché due torri è sbagliato dal punto di vista pragmatico di poter avere un edificio per ufficio che dure nel tempo. Pugliamo le due torri, le corichiamo. Vogliamo in questo modo dialogare con una preesistenza che, seppure recente, è una preesistenza. La grande orizzontalità della fiera di Fuxus, l'albergo di Perocche era appena realizzato. Quindi l'edificio entra responsabilmente in dialogo, non vuole dire arriviamo noi e entriamo nel parco dell'architettura con la nostra firma. Si pone il problema di essere realistico, quindi di capire, anche come il comitente lo capisce, non lo capisce, che fare due torri era sbagliato perché c'è una funzione fragile nel tempo e variabile quella degli uffici. Quindi noi creiamo una torri orizzontale dove nella spaccatura in mezzo del foyer abbiamo le due torri, come si vede in questa faccia, ma è anche un edificio unico. E senza questa nostra, se non avessero scelto questo edificio, che all'inizio doveva essere fatto per gli uffici di fiera e poi non potevano più andare perché è andata in crisi, non avrebbero mai potuto affittare la Wind, perché Wind cercava 25.000 m2. L'atto di responsabilità, l'atto di visione, la verità è anche quello, mettere in crisi, che vuol dire perdere. Noi abbiamo perso la torre Unipol a Milano perché io mi sono rifiutato di pensare che lì potesse essere giusto fare una torre puramente oggetto, perché non c'era la massa critica volumetrica per poter fare arrivare a 100 metri. Lì alla fine Unipol vuole farsi vedere, però secondo me non era corretto. E quindi, infatti, abbiamo vinto, diciamo, la Comitazione Tecnica, però per il Presidente vogliono la torre. Chapeau, ma non è. Mario Cucinera fa una torre bellissima, ma dal punto di vista, diciamo, del progetto architettonico, è veramente voler andare senza faccia, perché non potevano andare all'altezza. Allora, noi crediamo a questo aspetto di responsabilità che vuol dire poi parlare di architettura. E questo mondo è anche l'idea che i nostri edifici spesso non sono mai uguali a se stessi girandoci intorno. Quello che prima era due edifici in un edificio, lo giriamo di poco e diventa una torre alta, si stringe con un sole e poi dietro diventa un muro, lo vediamo dopo. L'OGR che citava e che recentemente sono stati ristrutturati completamente, ahimè con meno poesia di quello spazio straordinario, perché il GR, non so chi lo conosce, è qualcosa di unico, la cattedrale laica del lavoro, come mai vista, era qualcosa di straordinario. Vinciamo il concorso per 150 anni in Italia, ma la concentrazione del progetto per noi è sugli spazi pubblici, sugli spazi esterni, omaggiando Licini in questo quadro degli anni 30, noi lavoriamo probabilmente con 1.200.000 euro per fare 12.200.000 euro per fare spazi esterni, oltre al lavoro insieme a Studio Azzurro, ma qui per noi era trasformare l'OGR in un luogo di destinazione, ovvero rimetto nella mappa degli spazi pubblici delle persone di Torino dalla quale era sparita. E per fare questo è bastato fare un pavimento di ghiaia ceramizzata rossa, poi il transetto bianco e la ghiaia verde all'altra parte, che ovviamente è la metafora della bandiera italiana. Questo segno di percorso grafico che richiama la memoria culturale con Licini di Torino, e qui che vedete punteggiate sono 84 acciughe realizzate da un nostro amico, fatto realizzare da un nostro amico di Notoro, con una dorata in fondo che rappresenta l'idea di un popolo che non è un popolo di acciughe, ma che si muove spesso in gruppo dentro un mare, e che diventava poi un gioco, i bambini si muovevano, le acciughe sono le nostre acciughe, automaticamente con un elemento d'arte diventava un'interfaccia che ha fatto diventare questo finché è stato aperto uno dei luoghi di Torino. Sto facendo casino? La responsabilità è anche convincere un comune che per anni ha lavorato per dare lavoro a Evitanti, ma si è dimenticato che una città è fatta anche di spazi pubblici, o di uno spazio che ha dei bambini, e quindi convinco un comune per fare un progetto di 420 mila euro, che voleva dire a questo piccolo cubo per ridestinare uno spazio per esposizione, per associazione, proprio a fianco al comune, ma dove l'edificio, oltre ad avere il suo senso significato pubblico, voleva anche mettere esclusivamente in scena, in realtà, una realtà completamente italiana, fatta di casa di geometri, liberi, anarchici, dal punto di vista del modo di organizzare gli spazi, o meno, e lo mettiamo in scena perché ci sono solo due grandi finestre in questo edificio, grandi, che mettono in relazione, una realtà del nostro quotidiano, siamo noi, e quindi va messa in scena, non ci dobbiamo agire spalle, e qui vedete una scultura che è sempre fatta da Danilo, che è una chiesa millenaria, perché da quella finestra si vede l'unica grande opera storica che è questa città, una chiesa millenaria con il campanile incastrato nel transetto molto particolare. Due aspetti che dobbiamo fare riflettere alla città sull'agenza, non solo di trovare lavoro, ma anche di dare nel futuro degli spazi dove potessi ritrovare, e farlo con poche risorse, per dimostrare che anche poche risorse possono diventare significative per un tema di trasformazione. Qui vado veloce per portarmi ad altri immaginari, questo è una storia per dire, questo intervento che abbiamo finito da un anno a Parigi, il primo intervento residenziale realizzato in Francia, adesso è partito un altro cantiere, sempre intorno a Parigi, negli ultimi anni, per tornare al tema del riuso, tutto ciò che prima era periferico, intorno giusto alla boulevard periferica, dove arriva tutta la viabilità, erano tutte le grandi aree industriali, Peugeot, Citroën, Reno e altri, che via via negli ultimi anni sono diventati nuovi quartieri urbani, quindi sono stati completamente riqualificati, secondo procedure diverse, secondo concetti diversi, ma oggi ciò che prima era periferia è Parigi, e in più col sistema Gran Paris era ancora più patricio, un elemento centrale, e noi veniamo chiamati a un certo momento a concludere un lotto che aveva già visto tutta una serie di interventi di architetti, dove però il tema era che ogni architetto aveva fatto la sua architettura, mancava l'effetto città, mancava l'intervento, e questo è il lotto, si affaccia sulla piazza urbana dove arriva la stazione Gran Paris, e quindi per la prima volta ci siamo sentiti da un sindaco che abbiamo fatto un progetto sobrio, perché noi ci siamo rifiutati di fare un progetto che non ritramasse la città, che non lavorasse su ritmo e sequenza, che non lavorasse su un'idea di identificazione attraverso anche qui una specificità che era il suo rapporto con il contesto e con la luce, in un luogo che era Anier-sur-Seine, era il luogo degli impressionisti, lì vicino attraverso un parco si arriva sulla Seine, e quindi questo edificio lavora sulle regole francesi, ma via via racconta la sua storia, perché si modifica attraverso una regola molto dura che hanno loro degli alloggi, che qui non ve ne venderebbero neanche uno, ma lì è una struttura fatta così, e via via raccontiamo la nostra storia, la nostra storia è fatta di creare poi un attico che diventa completamente di ceramica, perché rapporta con la luce, ma via via in alcuni elementi la ceramica contamina la bricchetta tipica che usano loro e cominciano a identificare una storia tale per cui l'obiettivo era affermare un senso di appartenenza, io abito laddove c'è la finestra bianca, io abito laddove c'è la ceramica dorata, io abito laddove c'è la cornice fatta da artisti, io esco dall'indifferenza diciamo di un abitare ripetitivo che non mi appartiene più, quindi entro in una dimensione di intimità tale per cui l'incontro con l'architettura, il mondo che abito mi appartiene. e costruiamo tutta una storia che da un lato declina in maniera differente ciò che normalmente loro usano, ciò che normalmente loro raccontano, dall'altra introduciamo i nostri argomenti. Ania Sussena ha una genre urbanismo, ovvero una storia urbanistica che è una donna durissima, è finito il progetto, un giorno mi viene incontro, l'abbiamo fatta grossi, adesso dice l'italiano, dice l'architetto, il vostro edificio è quello in cui piace più agli abitanti, perché gli abitanti si fermano perché cambia la luce, il colore e quindi è diventato il posto, quindi la ringrazio perché crediamo che la scelta di aver scelto l'architettura in quel caso lì è stata efficace. Allora detto una persona molto dura, poi francese, luminista, quadrata, in cui noi parliamo di poesia, sentimento, che non ci fanno mai parlare di queste cose perché siamo troppo mediterrani, è stata la dimostrazione di aver toccato, stando nelle loro regole, nelle loro tecniche, nelle loro norme, qualcosa che anche loro ne hanno bisogno e quindi portare sul tema più difficile per gli architetti che le residenze è per me molto importante. La stessa cosa come tipo di approccio, noi lo riportiamo in altri ambiti dell'architettura, la pittura di Sironi raccontano un'idea di periferia fatta di oggetti semplici e compositivi che in qualche maniera costruiscono la città tra la dimensione industriale e quella urbana. Ed è il concetto con cui è stata concepita la costruzione dell'estensione dello Yulma, dove gli edifici sono edifici semplici e che costruiscono un tessuto che in qualche maniera richiama quasi quello dell'industria, quello della periferia, dove anche i colori richiamano quel tipo di immaginario. Ma anche qui, come vedete, esiste sempre quella magia tra cui il grande auditorio ha questa pelle diamantata, dove il diamante di prima l'abbiamo frantumato in 9x9, che è una specie di mosaico, e questo rapporto tra luce, vanescente, massa, materica, diventa molto importante, così come questa composizione in cui vedete come cambia il colore a seconda luce proprio della ceramica, o come la parte espositiva è un blocco in cemento, come tipico degli elementi industriali di quell'elemento lì. Ma allo stesso tempo all'interno invece accade tutta una storia di compressione e dilatazione dello spazio che fa quasi da contraltare a cercare l'immagine esterna. Oggi raccontavo agli amici dell'Ufficio Piano questa storia che io racconto sempre, che cerco in qualche maniera di far intendere cos'è che in qualche maniera guida un po' questa idea di rapporto tra visione e realtà. E lo dico raccontando cos'è la mano, perché la mano è fatta dal palmo e dal dorso. Per me la mano è la sensualità, nel senso che la mano è il sentimento, noi accarezziamo con la mano, noi prendiamo le cose con la mano, quindi col palmo della mano abbiamo una gestualità che comunica un certo tipo di messaggio. Col dorso della mano, che è fatta di tensione, di ossa, di altre cose, comunichiamo e col dorso della mano facciamo male, siamo più violenti. In questo modo è un po' anche estremo di metaforico, racconto, cerco di dire, la differenza tra una cultura diciamo anglosassone o c'è un'altra proporzione che mette in evidenza proprio i tendini, anche nel modo di portare l'architettura, e un'architettura mediterranea, che per me il Mediterraneo è il mare nostrum romano, che partiva dal Nord Africa, arrivava al Centro Europa, laddove in qualche maniera tutta una serie di aspetti entrano in una dimensione proprio empatica con noi stessi. Ed è quello che ci porta a dire per me questo, che senza immaginare una via reale, possibile o impossibile. Non è quindi possibile immaginare che i frigoriferi diventano quello che volevano essere, quindi con la grande facciata rossa come primo atto deve raccontare un paesaggio che si stratifica successivamente di un elemento che poi al terzo piano diventa completamente sospeso nel cielo ed è la prima volta nel 2005 in cui c'è un piano che uno, completamente spente, voi potete vedere Milano a est, ovest, nord e sud galleggiando completamente in questo spazio. Così come è avvenuto un'agenzia spaziale, così come questo è quel muro che nel mio immaginario è il muro di Orange, non so se siete mai stati Orange, chi arriva Orange, uno pensa al teatro, ma la forza del teatro è che l'entrata nella città è questo grande muro romano che fa proprio da limite e poi sì dietro c'è anche il teatro, ma è estremamente fisico nel cesso. E questo muro fa il contraltare all'immagine dell'edificio dietro, ma è anche una dimensione responsabile e di buon senso dell'edificio. In questi anni si parla sempre di sostenibilità, io discuto questo termine che spesso è foriera semplicemente di sovrastrutturare scelte che non sono di buon senso o meno e io racconto sempre il fatto che l'architettura sia come un corpo, noi ci proteggiamo le spalle, perché dalle spalle noi ci ammogliamo, una facciata a nord non deve essere vetrata necessariamente, quindi diventa una facciata ventilata, materica, guardate com'è potente per noi questa facciata, diciamo, alta 50 metri lunga, 125 e ci apriamo a sud, dove il sole in qualche maniera ci scala. E quindi i nostri edifici spesso hanno questo rapporto, che anche qui io uso un termine sbagliato, ma lo faccio spesso perché da meridionale me lo posso permettere, da ignorante meridionale, ovvero quello che io ho sempre scritto, una delle cose come un Giano Bifronti. In verità il Giano Bifronti è una divinità romana di due facce, è la stessa faccia. Io nella Giano Bifronti cerco di dire che i nostri edifici hanno due facce differenti a seconda, diciamo, lo stesso edificio cambia pelle, cambia la natura, perché racconta una storia differente e non c'è mai per noi l'esigenza di portare un discorso che gira tutto intorno a se stessa, a meno che non ce ne sia un motivo specifico. Quasi, come dire, un po' criticando il fatto che l'edificio non reagisca punto per punto a ciò che deve raccontare, a ciò che deve essere. Ed è quello che è avvenuto a Roma. Raccontavo oggi agli amici che quando ho fatto vedere questo modello in fase di studio al country manager di BNP, non vi dico cosa mi ha detto, nel senso che è un po' molto... Quando però ho capito che qui volevo raccontare il fatto che quella facciata doveva in qualche maniera, come le ali di una farfalla, essere sempre diversa rispetto al cielo ed era una dimensione ovviamente poetica. Poi i banchieri sono molto lontani da un'idea di poesia, anche se poi, visto la facciata come è venuta, ha comprato tre modelli dell'artista, quindi poi ci ha guadagnato l'artista, però era un po' come dire, come poter raccontare questo edificio che è lungo 300 metri, altro 50, 70 mila metri quadrati, è enorme in quel contesto romano, e provare a dire, prendendo il mio rischio, che volevamo che accadesse questo. Volevamo che accadesse questo, ovvero un edificio che a un certo momento sparisse, cioè come fa a sparire una nave da crociera, come fa a sparire una porta aerea, come fa a sparire... però sparisce, questa è una foto reale. Noi comprendiamo la dimensione di questo edificio dalla sua ombra. Recentemente Stefano Anzini ha fatto delle foto ancora più belle, recentemente, perché sto monitorando nelle diverse stagioni, adesso dando spazio a un giovanissimo fotografo di Varese, che da un anno lavora con noi, e quindi la settimana scorsa era giù, passando un weekend, e ha scritto un bellissimo posto dicendo, quando uno è contento con un cielo è brutto, cioè è nuvoloso o meno, perché questo edificio diventa così etereo, diventa un modo per catturare le nuvele, il cambiamento delle nuvele, sparisce quasi diventando liquido, ma diventa quasi una pennellata di cielo, perché lo cattura, quando il cielo da grigio apre in un certo momento e lo cattura, perché queste pieghe raccontano come una riflessione, tra cui sette tipi di vetro fanno sì che comunque con la geometria variabile ciò che a un certo momento è specchiante diventa trasparente per l'inclinazione, ciò che è specchiante diventa trasparente per il cambio di luce. Quindi non è mai uguale a se stesso, in nessun momento. E questo edificio lungo 300 metri, che parte da 18 metri a un doppio corpo, arriva a un punto di essere 4 metri, si alza con questa grande punta, che è una reazione all'otto, anche se ovviamente nel nostro immaginario tutti l'hanno riferita a Moretti, magari, nel senso che ovviamente c'è nel nostro immaginario, però è ovvio che automaticamente ci rimandiamo a Moretti, ma la genesi di questa cosa qua è la mia volontà di reagire a un lotto, portarlo fino in fondo e convincere una banca che lì bisognava andare avanti per 20 metri e portare un ufficio a quasi 4 metri, da dentro, quando entra dentro quella punta lì è pazzesca, perché è proprio l'evanescenza dell'edificio, e che automaticamente mette in scena la cisterna del mozzone, quindi l'incidente, il vincolo della sovintendenza diventa un'occasione straordinaria per raccontare come l'edificio è uno, è due, è tre, si frantuma, racconta una serie di pontini, una serie di spazi differenti, diventa drammatico quando il cielo è drammatico, diventa un racconto urbano, quasi fuori scala, come un contesto, come quello di Tiburtina, e con le pieghe in questa dimensione enorme dell'edificio diventa proprio dei fogli, non vi sto attediare sul tema di come aver risolto questa cosa tecnica, ma vi dico una cosa che ho detto oggi, questo edificio, come lato orizzontale con l'edificio, è costato 1.250 euro al metro quadrato, 1.250 euro al metro quadrato, con 35.000 metro quadrato di facciata completamente disegnata da noi, e dentro c'era già tutto tranne il fit-out che ha fatto poi BNL, e dietro diventa un'architettura quasi piranesiana, e qui troviamo la ceramica, qui per questo edificio disegna appositamente una nuova piastella di ceramica, che lavora non sulla tridimensionalità cuspide, ma sulla piega, richiamando un po' la faccia dall'avanti, e che crea questo effetto straordinario di portare la luce fino a 50 metri di profondità, e che diventa evanescente, perché il tema sempre della scomposizione della luce e della diamanta fa sì che accade questo, non è un effetto, la luce rende in un certo modo, basta che ci siano in un certo modo, l'edificio diventa un liquido, un materico, o prende il colore del tramonto, quindi diventa dorato, bronzato, anche lì la ceramica non è mai uguale a se stesso, fino a quasi sconfinare nel cielo. E l'edificio è questo, ma è anche questo, e molte altre cose. La particolarità di quel progetto che mi ha colpito è che siamo a Roma, il rapporto edificio con l'architettura, in un contesto molto particolare, e ha avuto un consenso totale, e ciò fa pensare, io non ho mai trovato questo consenso come un consenso alla nostra architettura, ma il fatto che lì l'architettura, tra il momento giusto e il logo giusto, su due aspetti che io credo siano importanti, ovvero quelli materici, quelli di interagire con la luce, ha creato un dialogo con le persone, perché il fatto che fosse sempre cangiante, come il cielo, e che mettesse in scena il cielo di Roma, avesse creato un dialogo con le persone. I primi posti che mi mandarono avevo paura, perché ovviamente, tenendo conto che interveniamo con un edificio enorme, per uffici, per una banca. Sono tre cose che, solo di principio, a Roma, possono stare solo sulle scatole come tutte le condizioni. E invece è diventato qualcosa di straordinario, nel senso che è stato percepito, è stata anche mutata la percezione dell'architettura contemporanea come possibilità, invece, diciamo, di rigenerare luoghi. I vincoli verso le regole sono la presentazione di un concetto. Oggi raccontavo anche questo aspetto, ovvero noi siamo diventati la società delle regole, ovvero la società che, in qualsiasi cosa, che sia l'architettura, che sia le norme, che sia la medicina, che sia la scuola, siamo chiamati a compilare una crocetta dentro dei formulari, ovvero a rispondere a delle regole. Fatta quella, siamo a posto, ognuno di noi, e siamo diventati così in tutto. Se fate, analizzate il processo, diciamo, della gestione delle cose, ci viene chiesto questa società. La società delle regole, come siamo diventati, non solo noi, è una società che non produce pensiero. Ci sono i vincoli che producono pensiero. Io voglio i vincoli, duri, difficili. I vincoli ti obbligano a inventare qualcosa, i vincoli ti obbligano, in qualche maniera, a cercare, soprattutto noi come italiani, che abbiamo più capacità, a capire come rovesciando il calanchiale si può trovare. Allora, per esempio, in questo concorso di Brescia, che vi faccio vedere prima, noi interpretiamo le regole, facendole diventare mentalmente per noi dei vincoli. Il piano urbanistico prevedeva che si facesse questo, semplicemente un rettangolo. Boom. Non era possibile. Quindi, il cliente fa un concorso, semplicemente, come spesso ci chiede, fateci una bella facciata. fateci una bella facciata, non è estremamente interessante, soprattutto per abitare. E quindi, noi, io non lo faccio mai, in concorso presentiamo sette proposte differenti, con dei titoli precisi. Quello che vorreste, quello che si vede in giro, quello che vuole il commerciale, quello che si aspetterebbe al comune, quello che va di moda adesso, quello che farebbe un nostro amico architetto, quello che faremo noi. e, porca c'è Eva, c'è il cliente, sceglie noi, e sceglie quello che, spiazzando, abbiamo vinto, ma vuole quella cosa lì. E allora, quel punto poi, dovevo dimostrare, che questo dovevamo dimostrare, che era possibile. Il piano urbanistico, non si muoveva di una riva, doveva essere quello. Allora, però, ribaltando il concetto, da legge le regole come vincoli, abbiamo cercato di trovare, come dire, le crepe, le fessure, dove passare. E quindi abbiamo cominciato a lavorare come lavora la città classica, cominciando a scomporre quella regola in basamento, elevazione e coronamento. Poi, quello che abbiamo fatto praticamente, abbiamo cercato di farlo anche nell'altra direzione. Quindi, vedere come, comprimendo, o alzando, o sforando, dove si poteva fare, delle logge passanti, perché le norme non lo permettevano, costruire. E quindi è nata questa specie di metamorfosi, che hanno una specie di aboca di montaggio, del progetto, che, scusate, che sto facendo un calo, che ha creato questo, verso la città, una stratificazione orizzontale, dove la materia ci permette di raccontare come ogni cosa è variata. Non è più un elemento lineare, continuo o monolitico, ma è racconto una storia, di volume che, anche di pochi decine di centimetri si muovono, di logge passante, di edifici che poi diventano di legno, di rapporto completamente differente tra la parte orizzontale e la parte verticale. Mentre sul parco, questo spartito diventa completamente verticale. Quindi diventa un rapporto che si relaziona molto più col parco. E questo è quello che accade nella realtà poi. Ovviamente, per poter fare questa cosa qui, la materia, insieme alla volumetria, doveva permettere questo racconto. Quindi qui applichiamo per prima volta questa ceramica diamantata, che tiene l'elemento orizzontale, a cui si propone una nuova facciata in legno, una facciata ventilata in fibrocemento, in tono. Il tutto costruito a 1000 euro a metro quadrato. E accade questo. Accade che non c'è. Partiamo con un progetto in permesso di costruire, con degli appartamenti, come voleva il committente, per finire a realizzare cambiando tutti gli appartamenti. Perché è stato interpretato bene il concetto, e quindi è stata una ricezione da parte del mercato, per cui si è capito che l'accorpare, le tipologie, potevano permettere, come dire, l'invenzione degli appartamenti, anche vincendo la sfida molto difficile in Italia di valorizzare il piano terra, con questi grandi giardini che mettono in relazione nel parco pulito con quello privato. E quindi accade questo. E la materia ha aiutato il rapporto con, diciamo, con chi ha scelto poi di abitare qui. E per noi, invece, è un discorso probabilmente architettonico che abbiamo riportato in un edificio per ufficio che vedevate prima. Pragmatismo visionario. Perché noi visionario è quando ci rapportiamo su manufatti ancora più difficili, come questo che non saprei definire, perché un concorso vinto su un progetto degli anni 70 di Gambacciani che viene realizzato o messo in cantiere sette anni fa, cinque anni fa, e per cui il committente deve comprendere che per realizzare un edificio vecchio di 30 anni commercialmente non ha molto idea già in cantiere. Quindi lancia anche i soliti concorsi e dice non ci date un'idea o uno schizzetto per la facciata. No. Se vuoi è modificato il bando di concorso per tutti, tra per cui chi si fa un progetto di architettura sera e poi chi vince può seguire il cantiere o meno la direzione artistica. E per me qui siamo a Genova, era parlare di questa condizione in particolare di una città sospesa tra cielo e mare. Siamo a San Benigno, chi arriva a Genova, a Genova Oste, siamo lì, uscendo dall'autostrada cade tutto con un po' di roba tra infrastrutture, e questo edificio anche questo non è mai uguale a se stesso. La città del Mugugno, come dice Renzo Piano, non ha mugugnato per zero. Gli è piaciuto questo edificio? Non sapevano ma l'abbiamo fatto noi, quindi può essere che anche se si capiva qualcosa. Le scale diventano come dei gecchi che si muovono, questo che è una prospettiva sempre uguale e differente a se stessa, ma partecipa anche alla dialettica dell'infrastruttura che ci sta sottostante nel cura linguaggio. Allo stesso tempo l'edificio è uno, è due, è tre, diventa liquido, è riflettente, come raccontavo oggi, riflette il simbolo dell'antena, potete dirvi che è evoluto, ma non è vero, è accaduto, accade che in un certo momento l'ombra si riporta in quella direzione, e tutto ciò che vincola diventa invece narrativo di una parte di città che è stratificata tra infrastruttura e questa è un'idea che riportiamo sempre in questo che è un progetto del RANV Interpari 1 a Morlan, dove un percorso pubblico concentrato tutto è pensato sulla musica attraversa l'edificio o come questo che vi raccontavo prima dove qui sono altre immagini che fanno comprendere il rapporto tra la piazza e gli interni o come in qualche maniera raccontiamo questo progetto che adesso vado a volto veloce è un progetto vinto due anni fa che partirà l'anno prossimo è uno dei primi progetti del progetto NEX del Grand Paris intorno al Grand Paris intorno alle 186 stazioni che costruiranno nasceranno dei progetti con NEX invece urbani ovvero là la città di Parigi chiede che siano dei progetti innovativi da tutto il punto di vista dal punto di vista funzionale dal mix funzionale dal mondo di relazione e noi vinciamo questo concorso sulla base di un concetto italiano ridurre o meglio eliminare questa logica tra i percui il marciapiede il marciapiede pubblico è un elemento di limite tra la parte funzionale e la strada invece facciamo entrare il percorso pubblico dentro creando questa sequenza di corti di giardini di piazze cattedrali e quindi in questo modo automaticamente il parvi della stazione fa parte di questo sistema dilatare lo spazio pubblico rendolo e contaminare con la parte privata e il modo di fare interagire degli spazi di relazione sempre differenti il progetto è un altro tema che amo dire deve essere un atto di generosità ma non perché sia un buono l'atto di generosità vuol dire che ci vuole un ingaggio in francese si dice un ingaggio c'è un ingaggio da parte di tutti dal committente dall'impresa io chiedo questo in un certo momento chiedo all'artigiano all'impresa che accada questo che è credibile che vuol dire fare una facciata ventilata in ceramica diamantata a fuga a zero e portata ancora sul fit è possibile è possibile fare questo è possibile farlo dentro i contesti economici dei vincoli progetto è possibile realizzare sei statue di angeli che guardano verso la città e che sono portati dentro per raccontare un rapporto intimità e che mettono in sequenza come vedete tramare la città vuol dire sempre costruire dei corridoi visibili per cui mettiamo in scena ciò che ci sta dietro ogni edificio per noi che facciamo vuole entrare in dialogo con il contesto quindi lo vuole mettere in scena bello brutto che sia perché è quella dimensione reale importante che ci rende partecipi ci fa appartenere a un luogo e altra cosa importante qui abbiamo portato sull'edilizia un lavoro particolare quella è una cornice realizzata con un prodotto industriale quindi certificata a livello europeo con un costo industriale basico però finita realizzata da un artista oggi abbiamo prototipato certificato un sistema per cui voi potete oggi grazie a questo da quale ognuno sciogliendo l'artista che vuole riportare l'arte la personalizzazione dentro gli edifici residenziali e quindi liberamente come vorreste e noi ci siamo riusciti a farlo in Francia dove il processo di certificazione è durissimo perché tu devi farlo prima di avere il consente permesso di costruire prima di arrivare ad un tipo di soluzione dentro certi costi e quindi per esempio quando il budget si riduce il terzo edificio diventa tutto in tonico e allora sposto tutte le cornici il 70% laddove c'è l'edilizia popolare quindi laddove non ci può avere la ricchezza della materia di altri edifici gli metto le cornici e automaticamente il racconto diventa completo la ceramica vedete prende il verde quando ci sono il verde diventa marrone vicino a un'abricchietta marrone diventa il colore del cielo quando dialogo con il cielo chiudo ma velocemente nel raccontarvi i docs i docs mi piace però raccontarli con alcune parole poi lascio passare le immagini ho scritto questa cosa qua durante la presentazione di un premio l'architettura è l'arte del limite sconfinare il limite è l'ipefania il luogo dell'intuizione della scoperta della meraviglia uno sconfinamento geografico io credo che sia importante sconfinare vi dico cosa vuol dire sconfinare il progetto è l'incontro con la geografia un territorio una città una storia quindi è l'inizio di un dialogo il dialogo con questo metroprogetto è una presentazione che abbiamo fatto alcuni anni fa alla Fenice che è la base diciamo di un rapporto con l'architettura e che spesso è il dialogo con la città con la materia con la committenza con la tecnologia con la storia il dialogo con la città viene questo è il primo del nostro intervento una città importante che ha dei confini sconfinare vuol dire superare dei limiti ed è quello che è avvenuto nel 1950 quando i docks sono stati realizzati perché il viewport non era più sufficiente per i mercati di Massiglia e è stato realizzato il Bassin Don Juliet il significato vuol dire che il confine non è altro che l'alimentazione dell'estensione di un'area quindi è proprio un disegno di un territorio e in qualche maniera l'edificio è diventato un confine nord-sud-est-ovest molto preciso fisicamente e geografia non è altro che una prima rappresentazione di disegno della terra e noi quando abbiamo fatto il progetto spesso noi disegniamo anche se il progetto lo stu in cima piccolo una planimetria che rinterpreta la nostra visione della città per capire gli assi fondatori i ruoli nelle parti quindi sconfinare per noi è un valore positivo perché definendo i limiti quello del progetto uscire dai limiti la considero una realtà necessaria è quello che è avvenuto nel 1995 attraverso la prima ristrutturazione dei docks e sconfinare vuol dire automaticamente contaminarsi uscire da un'area possiamo dire protetta contaminare vuol dire mescolarsi fondere sovrapporsi che è la nostra storia della città la nostra storia della cultura perché nel primo approccio la prima contaminazione per me era quasi poetica Mr. Dagon Fai e Dr. Dzeko sono le due figure che ritroveremo poeticamente in molti dettagli del nostro progetto che è quello che noi prendiamo nelle mani che automaticamente ci racconta il perché di questa storia particolare è un'esigenza che io trovo fondamentale per la contemporaneità perché permette dal mio punto di vista di far accadere questo di raccontare questa storia che porta dei valori che vanno al di là dell'occasione che il progetto ci richiede che permette di fare in modo che un'esigenza in piantistica diventa il racconto tra una materia in ceramica tra un dialogo tra un artista e un artigiano un'azienda un'impresa un comitente americano uno francese un architetto italiano dove qui c'è il vetro di Murano la cornice di Albissola e la ceramica di Modena le piante di Pistoia l'acciaio galvanizzato di Torino quindi un viaggio della materia che racconta un sapere non fa sapere è una cultura contaminarsi vuol dire integrazione quindi integrarsi integrare a qualcosa che in qualche maniera permette di affermare un'idea di appartenenza perché se noi ci contaminiamo noi ci integriamo allora affermiamo un'idea di appartenere a un luogo e quindi questa idea di appartenenza è fondamentale perché se un luogo non ci appartiene emotivamente noi riusciamo a sentirlo dentro di noi poi dialogo la storia ma vi vado molto veloce perché noi ci siamo trovati di fronte a un edificio di cui vi racconto solo queste cose che io definisco esatto 365 metri come i giorni dell'anno 4 corti come le stagioni 52 porte come settimane 7 piani come i giorni della settimana questo è quello che ci troviamo interno all'esterno e noi vogliamo che i doxi diventino permeabili e porosi diventino un luogo di destinazione e quindi che le 4 corti da 4 luoghi diventano 4 sentimenti legati al Mediterraneo attraverso ciò che rappresenta il nostro immaginario il Mediterraneo la ceramica la natura la luce le ombre la grande porosità permeabilità oggi dicevo sempre che convincere un americano criticando il loro concetto commerciale tutti i centri commerciali in fronte anglosassone nascono da un dispositivo voi parcheggiate sotto o davanti entrate da una porta e uscite dalla stessa porta circuito perverso perfetto per farvi spendere per farci spendere noi a JP Morgan abbiamo detto i dox faremo 102 porte ovvero tutte le aperture e non ci sarà una porta di ingresso e di uscita ma ciò che oggi è un limite diventa un sistema poroso in quel modo diventa luogo di destinazione in quel modo si distinguono altri spazi in quel modo diventa un luogo di una città detto una banca americana che lì viene solo a sviluppare questa operazione e cerca di portarla ma solo valore puoi vendere questa è una battaglia importante che poi ha portato al lavoro sulla materia i sette blu la foglia disegnata con l'artista ha portato a produzione i gechi le libellule la metamorfose un cantiere di dimensione straordinaria interventi microchirurgici interventi sadicamente chirurgici e poi le quattro corti la prima la tocchiamo la scaviamo introduciamo il blu cielo mare mediterraneo uno shock uno entra non si aspetta stupore meraviglia entri da questo manufatto che è esterno è rimasto uguale in pietra e si trova questo la seconda la ceramica introduce un'idea di foglia e di natura lascia pian piano lo spazio alla natura il gessomino pian piano si si intreccerà con la ceramica quindi nel tempo cambierà la sua percezione la terza riappare la pietra è tutta natura e la quarta diventa quella sospesa che rimanda ad altri immaginari l'unica corte che tocchiamo per un solo punto e l'interno diventa questo continuità percezione nuova apertura costruzione di prospettive differenti sia dentro un interno ma sia dentro un esterno sia dentro una prospettiva molteplice chi va a lavorare ha la prospettiva trasparente di chi sta camminando di chi sta mangiando di chi sta andando alla corte tutti i paesaggi diciamo della vita diventano dentro uno spazio cronotopico tutto continuo all'esterno la città diventa porosa essa stessa in rapporto e poi nasce la facciata nord che nessuno voleva o aveva messa come punto di progetto che per noi invece è uno sguardo verso la città che si sta costruendo e da un vincolo a una scala costruiamo una piazza che racconta con 56 testi come nella storia i massili sono stati luoghi di destinazione quindi selezioniamo dei testi che vanno dai romani a Camus a Hemingway a Casanova perché questo appartiene a chi vive Massiglia grazie